Preziosi libri antichi sulla matematica in mostra fino al 28 febbraio alla Biblioteca Comunale di Como. Dopo questa data i volumi, alcuni risalenti al 1500, verranno rimessi sotto chiave per almeno due anni. Il progetto fa parte della programmazione culturale dell'assessorato cultura del Comune di Como. Per ogni anno si prevedono in biblioteca esposizioni di libri antichi o documenti storici, di solito non visibili al pubblico se non su richiesta per studi di carattere particolare. Però mostrare questi libri è un'occasione perché le persone vedano non soltanto degli oggetti meravigliosi, ma anche magari perché a qualcuno venga l'idea di studiarli facendoli così rivivere. L'esposizione dal titolo La Matematica come misura dell'universo si articola in cinque vetrine che racchiudono i tomi dei grandi matematici del passato, da Euclide a Copernico, passando da un volume di Giordano Bruno, uno dei 3-4 al mondo scampati a rogo su cui morì il loro autore. Quando in genere si condannavano a rogo intellettuali o scienziati che avevano idee contrarie a quelle che una volta era ritenuta anche la morale o il contesto scientifico da tutti accettato, venivano purtroppo anche messe a rogo o distrutte anche le loro opere. Per cui delle opere di Giordano Bruno si è salvato veramente pochissimo. Noi siamo i fortunati detentori di quest'opera molto rara che si intitola Articolicentum adversus matematicus.